Ma qui c'è una faccenda singolare, nel senso che i più moderati in questa situazione sono Berlusconi e Salvini. Salvini è stato moderatissimo, controllatissimo, ha fatto una parte esattamente l'opposto di quella che solitamente sta facendo. E quindi io ho l'impressione, francamente, dell'autogol, dell'autogol fatto da Fratelli d'Italia, nel senso che un autogol non solo all'interno della coalizione, ma specialmente all'esterno. Diciamoci la verità, il PD era ridotto al silenzio, si era autosilenziato, sta facendo un difficilissimo congresso e così via. Aveva altro a cui pensare. A questo punto c'è stata... e la Meloni a sua volta, la Meloni e Nordio stavano facendo... Nordio stava cercando di portare avanti una difficilissima riforma della giustizia che doveva controllare le intercettazioni e andare a quella che è la misura più forte, la separazione delle carriere. La Meloni sta facendo a livello internazionale e interno una grande operazione di presentazione di una sua versione moderata e da tutti riconosciuta. Rispetto a questo, la sortita del Mastro specialmente e di Donzelli, sembra, per dirla un po' un paradosso, una sorta di soccorso nero dato al PD che su questo ha trovato una ragione di grande contrapposizione.